buongiorno buona domenica prima di fare prima di registrare questo video ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa perché di solito non mi arrabbio mai o meglio non mi nervosisco mai invece ho dovuto fumarmi una sigaretta per rilassarmi raccogliere le idee e poi mettermi qui a registrare è raro che io risponda direttamente a qualcuno su youtube perché perché come amo spesso ricordare youtube e youtube io sono su youtube mi sono esposta ma mi sono esposta coi miei contenuti eppure anche solo per il fatto che io esisto vengo continuamente citata e ci sta ci sta perché siamo su youtube e quindi citatemi fate quello che volete lo fanno da anni a sproposito ma lo fanno da anni quindi nel momento in cui si fanno certe affermazioni sarebbe meglio come sempre portare le prove invece qui si apre il becco si da fiato non avrei neanche voluto dire niente ve lo dico chiaramente però a fronte della live fatta ieri sera ea fronte delle polemiche che ne sono scaturite chiamiamo le polemiche va bene dai non voglio usare termini più forti seguito poi un video di simona ho visto che chanella stamattina ha riproposto un video di sette mesi fa e allora devo dirvi in tutta onestà che mi è un po salito il crimine perché il fatto che nel dicembre scorso io fossi costante oggetto insieme a chanella di accuse su cose mai provate ma soltanto sentite nell'intimo di questa persona dentro di sé il proprio immaginario personale che ha lavorato ed elaborato delle strane teorie complottistiche che poi a seguito di ciò si è state fatte minacce minacce adesso vi faccio vi faccio riascoltare quello che ha riproposto chanella stamattina nella sua community postando ripostando un vecchio video di del dicembre scorso insomma sette otto mesi fa ascoltate io devo chiedere scusa a quelle due ma che cazzo stai io devo chiedere scusa a quelle due ma di che tu mi dicevi privato chiedi scusa a me io lo faccio ma non a loro due ma completamente non esiste io sarei minacciatore di donne minacciatore di donne per quanto io ho detto sai che cosa si riferisce carissimo bara e se io dicevo le stesse parole alla cassandra alla graziella a tu mi avresti applaudito siccome io l'ho detto invece alla chanella ti ha dato fastidio perché quando io ho detto alla chanella ti faccio passare un 2024 di merda non significa che vada a casa sua e gli spari in tesa non significa che vado a casa sua e l'abullizzo non significa che io la minaccio di morte significava che gli facevo le live e i video come gli faceva lei di merda come la marina che mi ha minacciato già nella tua nel tuo video mi sembra pure una cosa se non mi ricordo se era suo oppure tuo dove ha detto a sandro devi chiedere scusa pubblicamente se no io so cosa devo fare marina così che devi uscire ricordati che io e te c'è se tu pensi di far male a me che poi non capisco su cosa lo puoi anche fare tranquillamente io posso fare male a te e tu sai lo sai quindi io penso che devi stare un po calmino perché con me vi sto dicendo vi sto ripetendo che vi state mettendo in tutte acque voi potete dire fare quello che volete ma non mi potete trattare come trattate la maria sola io posso far male a te io posso far male a te io posso far male a te ecco ecco qua ecco perché mi è salito il crimine riascoltando questa queste parole in esattezza scorrettezza e schifezze io non ho mai minacciato nessuno mai sfido chiunque a trovare un mio video una mia esternazione nella quale io abbia minacciato qualcuno non è nella mia indole è impossibile e quello che dicesti in quel periodo dicendo poi che l'ho detto io assolutamente no io in quei mesi me ne stavo zitta me ne stavo muta e mi godevo questo spettacolo indecoroso che ogni volta in live riproponevi ti riferisci perché differentemente da te io un'ottima memoria e dove non arriva la memoria registro salvo e conservo ok si trattava nello specifico a seguito di questa tua affermazione di un commento fatto da gabriel nel quale diceva grosso modo visto che tu stai accusando marina e chanel in questi giorni di cose che non hanno né mai detto né mai fatto inutile che se devi chiedere scusa lo fai pubblicamente perché queste cose tu le hai dette pubblicamente punto e questo è questo è stato io non ho fatto nessun video in cui ti ho minacciato trovalo trovalo porta le prove non l'ho nemmeno scritto da nessuna parte perché io in quelle settimane ascoltavo ascoltavo in silenzio come faccio sempre nonostante il mio nome venga tirato fuori ma questo è un vizietto è un vizietto di manipolare a volte poi voglio essere buona no mi viene il dubbio che non ci arrivi che ci siano degli evidenti limiti delle evidenti difficoltà di esposizione mnemoniche di qualunque tipo perché altrimenti non si spiega questo florileggio di bugie dimensioni e di falsità con annesse minacce ok perché è un vizio questo è nella live della notte scorsa della serata scorsa è fatto la stessa cosa hai detto con davanti in chat documenting che lui ha detto una cosa nei suoi video che non è mai stata detta mai assolutamente mai la stessa cosa con nico nico non ha minacciato la tua famiglia ma io non mi capacito non mi capacito salvo poi figuraccia pessima indiretta indiretta riascoltare il video di documenting e ammettere davanti a tutto a tutti di esserti sbagliato intanto ammettere di esserti sbagliato dovresti farlo un po più spesso però per ovviare a questa caduta di stile che magari danneggia un po il tuo ego faresti meglio prima di parlare a pensare come faccio io come fanno in tanti a pensare a ciò che dici perché vero siamo su youtube io lo dico sempre ma siamo persone siamo persone non puoi permetterti di aprire la bocca dire cazzate perché le tue sono cazzate sonorissime cazzate e non ti risparmi nessuno è in questo panorama di nefandezze e poi vabbè ce ne sarebbero altre di cose però io non vorrei vivere nel passato perché perché si va avanti la vita va avanti ma a te piace fare la vittima a te piace frignare è continuamente gnè gnè neanche un neonato frigna così tanto non esci vero non esci è adesso circolo vizioso perché altrimenti come fai come fai a fare live dove i più buoni dei tuoi utenti dicono che alla fine tu non hai fatto niente e che per un evidente imbarazzo mentre tu spari cazzate nelle tue live la tua utenza parla di altro di cinema di film di vacanze di gattini di micetti di topini sei imbarazzante veramente sei imbarazzante adesso con questo video ti darò pastura per altre live è ovvio quindi se vorrai aprire una live e citarmi a sproposito come citi sempre tutti gli altri fallo con delle prove con un cazzo di uno straccio di prova carissimo perché io non dico non mi nominare nominami nominami ma a proposito non a sproposito ok altrimenti dimenticati che io esisto chiaro perché non non è corretto non è corretto nei confronti di nessuno di nessuna delle persone che tu costantemente accusi di averti fatto e averti detto le peggio cose che si siano mai sentite sul tubo certo qualcuno l'ha fatto è per carità so tutto ma gente come me che si fa i fatti suoi ma non per vigliaccheria o paura ma perché non c'ha voglia di stimenate non ha voglia di perdere tempo a fare video anche come questo che facendo adesso che ne farei anche meno per dire ciò che penso adesso basta né te né altri mi mettete più in mezzo con puttanate se mi mettete in mezzo portate le prove queste cazzo di prove va bene vabbè raga colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri ieri e mi avete commossa mi avete intenerita perché insomma io sono un po un po duretta su certe cose ma devo dire che mi avete strappato un sorriso e anche un po di emozione ve lo confesso ecco queste sono le cose belle che devono accadere su youtube il resto è spazzatura il resto è schifezza chi vuole continuare a grufolare in mezzo a mucchi di rifiuti lo faccia pure ma non mi nominare più è adesso lo dico io non mi nominate per le tue puttanate non mi nominare più cortesemente ok di nuovo buona domenica a tutti ciao